ciao ragazzi oggi vediamo come eseguire delle croci con manubri su panca piano la prima cosa come faccio all'inizio è quella di posizionare le scapole all'indietro quindi in tilt posteriore devono essere infatti in tutto il movimento basse e depresse questo ha due scopi uno aumentare il lavoro del gran pettorale due aumentare lo spazio subacromiale in modo da ridurre il rischio di infortuni a carico dei tendini della cuffia dei rotatori scendo fin quando sento tirare il gran pettorale e a quel punto posso invertire il movimento immaginando sempre di voler avvicinare i due gommiti tra di loro durante la salita in questo modo vado a lavorare sento particolare tensione sul petto vediamo cosa non bisogna fare nelle croci con manubri innanzitutto partire con la spalla in tilt anteriore quindi partire con la spalla antepossa questo oltre a esporci ad un maggiore rischio infortuni va a ridurre l'enfasi sul petto aumentando quella sui deltoidi quindi cosa bisogna fare prima di iniziare il movimento come sto facendo ora addurre e deprimere le scapole altro errore è quello di portare la spalla in avanti durante la salita come sto facendo ora quindi magari all'inizio mi posiziono anche bene con la spalla in tilt posteriore ma poi in concentrica la faccio scivolare in avanti questo è un errore anche qui comporta un rischio infortuni e maggiore enfasi sul deltoide piuttosto che sul pettorale ultimo errore che vi faccio vedere è quello di portare le spalle alte durante il movimento abbiamo detto che la scapola va tenuta bassa depressa quindi è un errore assolutamente portare le spalle in alto sia durante la concentrica che durante l'eccentrica ragazzi siamo arrivati alla tip finale infatti come vedete quando eseguo le croci con manubri non vado mai a chiudere ad avvicinare manubri tra di loro resto sempre in tensione quindi interrompo la concentrica prima che i manubri si trovino perpendicolari al pavimento questo serve per evitare di avere punti morti durante il movimento ma lavorare sempre in tensione quindi è un errore anche andare a chiudere il movimento scaricando tensione e posizionando i manubri perpendicolari del pavimento se poi lo fate con le spalle in avanti peggio ancora quindi lavoriamo con le scapole in tilt posteriore in un range di movimento utile per lavorare il gran pettorale iscriviti al canale iscriviti al canale